Olbia piange le sue vittime, una folla di gente accoglie le bare che una ad una sono arrivate nel palazzetto dello Sport Geopalas. I feretri giaciono uno di fianco all'altro davanti all'altare. Intorno la città si stringe ai parenti dei cari perduti, Maria Massa, Anna Radienda, Patrizia Corona e la figlia Morgana, Francesco Mazzocco e il figlio Enrico. Il Vescovo di Tempio Empurias, Monsignor Sanguinetti, pronuncia tutti i nomi delle persone che hanno perso la vita nella terribile alluvione che ha colpito la città nelle scorse ore. Ci sono tutte le autorità del territorio, civili e militari. Arriva anche il ministro Chieng, rappresentanza del governo italiano. La cerimonia è sentita, gli occhi lucidi e pieni di lacrime, una sofferenza infinita. «Rimbocchiamoci le maniche e riprendiamoci il nostro territorio. Troppe famiglie oggi piangono i loro morti e le cose che hanno perso», ha dichiarato il Vescovo nella sua omelia. La commezione finale si è riversata in un lungo applauso che ha dato l'ultimo saluto alla vittima Olbiesi.